Ciao a tutti, io sono Tania di Alice for Children, un'organizzazione no profit che da 15 anni si occupa di portare cibo, istruzione e cure mediche ai bambini più fragili delle baraccopoli di Nairobi. Oggi vogliamo ringraziare Chiesa Valdese per il supporto che da anni garantisce i nostri progetti in Kenya, proprio nelle baraccopoli. Nei primi sei mesi dell'anno, grazie al contributo dell'8x1000 alla Chiesa Valdese, abbiamo potuto distribuire più di 180.000 pasti ai nostri bambini e i 20 bambini che frequentano il nostro asilo nido nella baraccopoli di Corogocio ricevono ogni giorno 4 pasti e seguono una dieta specializzata sotto controllo pediatrico per combattere la malnutrizione di cui sono affetti. Grazie a Chiesa Valdese per restare sempre al nostro fianco e al fianco dei bambini delle baraccopoli di Nairobi.